Salve ragazzi, volete creare una GIF partendo da un video di YouTube ma non sapete come fare? Non c'è nessun problema, qui vi mostro un modo veloce per farlo. Dal browser aprito YouTube e cercate il vostro video. Dopodiché in alto nella barra degli indirizzi, digitate semplicemente GIF dopo www. Basta inserire semplicemente GIF prima di YouTube e dare invio. Si aprirà immediatamente il pannello della creazione della GIF che potete selezionare direttamente dalla timeline in basso. Ovviamente la versione gratuita è con il logo del sito web. Clicca su Crea GIF in alto a destra, inserisci descrizione, tag, se vuoi che sia riprodotto il suono e se impostare la GIF appena creata pubblico o privato. Non ti resta che cliccare su Next che inviarla a chi vuoi tu. La GIF verrà esattamente come lo spezzone del video di YouTube che hai scelto. Se ti è piaciuto il video iscriviti e noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Simone.